Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nella 1p1 uguale 5 e 6 di... Oggi fare i compiti di matematica non è più un problema perché ci aiuterà il tubo pitagorico di Quercetti. Allora lanciamo la... Sigla! E poi scopriamo insieme che cos'è questo tubo pitagorico. Sigla! Sigla! Allora, ecco tubo! Si possono fare sia moltiplicazioni e sia divisioni. Per esempio, 1 per 1 uguale... 1! Poi prova a girare... Questa... 10 per 1 uguale 10... Se tu giri il blu però qui viene... La T è a tutti i numeri. Questa qui c'è tutta la tabellina. Gira ancora una volta. 10 per 10... Uguale 100! Tu adesso come compiti che cos'hai? Devi ripassare tutta la tabellina dell'1. No, anche del 3 e del 1. Gira quello rosso. Vai su 1. Ok. 4, 3, 2, 1... Ok, adesso gira il blu. Devo fare l'1. Ok. Adesso ripassi tutta la tabellina dell'1. Quindi... 1 per 1 uguale 1. Aspetta. 1 per 2 è uguale 2. 1 per 3 è uguale 3. 1 per 4 è uguale 4. 1 per 5 è uguale 5. 1 per 6 è uguale 6. 1 per 7 è uguale 7. 1 per 8 è uguale 8. 1 per 9 è uguale 9. E 1 per 10 è uguale 10. Qui invece abbiamo le divisioni. 10 diviso 10 è uguale 1. È bellissimo questo. Adesso si gira. 20 diviso 10. Ah, in realtà bisogna girare fino a... Ecco. 2 per 1 è uguale 2. Sei tornata sulle moltiplicazioni? Sì, bisogna fare così. Poi 2 per 2 è uguale 4. 2 per 3 è uguale 6. 3 per 3 è uguale 6. 3 per 4 è uguale 6. Appa, mamma mi ha dato il tubo per fare i compiti. 3 per 4 è uguale 6. 4 per 4 è uguale 6. 5 per 5 è uguale 7. 5 per 5 è uguale 6. 6 per 5 è uguale 6. 6 per 5 è uguale 6. 6 per 5 è uguale 6. 7 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 per 5 è uguale 6. 8 per 5 è uguale 6. 8 per 5 è uguale 6. 8 per 5 è uguale 6. 9 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 per 5 è uguale 6. 10 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 per 5 è uguale 6. dovete spallizzare e iscriversi al nostro canale saluta ciao